Che giornata che ho passato? Che ore sono? 10.30 Ok, mi alzo e mi lavo i denti Buu! D'accordo Mi vesto velocemente Avete visto? La Gloria sta attuendo la pata di... Nel bagno! Va bene Ciao ragazzi! A dopo! Do you ever feel like a plastic bag? Onto fear of turning Wanna start again? Do you ever fear? Feel so horrific Like you have the cars One of running in? He's a very poor Yeah, I guess No, I'm happy